Raid in una scuola di Mazzara, scritte razziste e aule a soquadro, denunciato mazzarese per detenzione di droga, sbloccati i pagamenti dei forestali, cambi in vista e nuovi ingressi nell'aggiunta Quinci. Con una vernice nera su una porta è scritto Sala Negri e sull'altra Sala Ebrei. Su alcune pareti è comparso anche il nome di Giulia, mentre è stata messa a soquadro un'aula, sono stati bruciati dei documenti e una tenda a piano terra. Al primo piano del plesso sono stati svuotati lungo i corridoi le polveri di due estintori. All'esterno dell'istituto, frequentato da 400 alunni, è presente la videosorveglianza del comune, ma purtroppo non è funzionante. Già da oggi, ha detto il preside Vito Lucio Nobile Fidanza, grazie alla collaborazione di tutto il personale abbiamo ripulito e sistemato e riaperto la scuola. E non sono mancate ovviamente le prese di posizione per questo raid vandalico nell'istituto. Su tutta quella del primo cittadino di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, che si è detto indegnato, è pieno di rabbia e sconcerto, i sentimenti che provano i confronti di chi ha lasciato quelle scritte razziste sui muri del plesso Rizzo Marino. Quello che è accaduto, ha continuato Quinci, è gravissimo e non si può accettare. Proprio tra pochi giorni, ricordiamoli il 27 gennaio ricorre infatti il giorno della memoria, è una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'olocausto. Chi ha pensato di macchiare solo dei muri, in realtà si è macchiato di un atto vile e inumano. E continuiamo, scusatemi, con il nostro Tg con la cronaca. Un 27enne di Mazzara del Vallo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Continuano i controlli del territorio attuati dai carabinieri di Mazzara del Vallo finalizzati alla repressione, al contrasto, alla criminalità e alla detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle misure emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le attività di perquisizione eseguite nel corso del servizio hanno permesso di segnalare due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e di deferire in stato di libertà un 27enne ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Un pensionato del posto, notando un viavai di persone, soprattutto giovani, dall'abitazione del denunciato a qualsiasi ora del giorno e della notte, ritenendo potesse trattarsi di un traffico illecito, aveva segnalato la circostanza ai carabinieri che avevano iniziato a monitorare i movimenti dell'uomo. L'uomo, sottoposto ad un controllo su strada mentre si trovava a bordo della propria auto, è stato sorpreso in possesso di due sigarette artigianali contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana. In seguito ad una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 36 grammi circa dello stesso stupefacente e un bilancino di precisione. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. Inoltre i militari dell'arma hanno identificato 313 soggetti, controllato 203 veicoli ed elevato 23 sanzioni amministrative, di cui 19 violazioni del codice della strada e 4 per violazioni delle misure di contrasto alla diffusione del covid-19, per un totale di oltre 16.000 euro. Cambiamo decisamente argomento. Il bilancio della Polizia stradale sull'attività di controllo dei trasporti alimentari. Vediamo. Si è conclusa l'attività di potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto di sostanze alimentari effettuata dalla Polizia stradale di Trapani dal 20 al 22 gennaio. Sono state impegnate pattuglie della sezione capoluogo, della sottosezione di Alcamo e del distaccamento di Castelvetrano. I controlli riguardano le merci trasportate sia su strada che su rotaia e sono volte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda il settore alimentare, poiché da questi dipende la corretta conservazione del cibo che consumiamo sulle nostre tavole. Una delle merci più delicate ed esigenti da trasportare è senza dubbio il cibo, che sia secco o fresco, richiede sempre attenzioni particolari e l'applicazione di regole ben chiare. È di fondamentale importanza chiedersi se i prodotti alimentari che consumiamo abbiano viaggiato in modo sicuro dal produttore sino a noi. La Polizia stradale in sede di controllo verifica diversi aspetti e anche molto tecnici, spiega la comandante della sezione di Trapani, Maria Adelaide Tedesco. Bisogna verificare che la sicurezza degli alimenti sia stata mantenuta lungo tutta la catena alimentare. Lungo le strade del Trapanese sono stati controllati 39 mezzi che trasportavano alimenti e contestate 23 tre sanzioni. È slitta l'udienza di parifica della Corte dei Conti che si deve pronunciare sull'ultimo rendiconto della regione siciliana. Era previsto per il 29 gennaio ma è stata rinviata. La Corte ha già informato il governo Musumeci che intanto nei giorni scorsi aveva recepito i rilievi mossi dalla Procura Contabile, modificando alcuni allegati al consuntivo. A breve dovrebbe essere comunicata la nuova data. L'udienza, si apprende da alcune fonti, potrebbe essere fissata l'ultima settimana di febbraio. E sempre dalla regione, buone notizie per i forestali, approvato il bilancio provvisorio, sono stati avviati dal Dipartimento Sviluppo Rurale i pagamenti per i lavoratori forestali relativi all'ultima variazione di bilancio di dicembre. I lavoratori percepiranno gli emolumenti già a partire dai prossimi giorni e seguiranno i pagamenti relativi ai progetti che sono necessariamente soggetti alle procedure di riaccertamento. A darne notizia l'assessore regionale dell'agricoltura, sviluppo rurale e pesca, Toni Scilla. Ma a proposito di regione, personale in fuga dall'assessorato regionale al territorio. Sono 233 le scrivanie vuote. Ecco chi manca nel servizio di Tiziana Indorato. Manca personale all'assessorato regionale al territorio. Sono ben 233 le scrivanie rimaste vuote tra prepensionamenti e timori di occupare poltrone che scottano, messe sotto la lente di ingrandimento dai magistrati o sovraccaricate di lavoro. Alla sede centrale mancano 42 funzionari direttivi, 39 istruttori, 10 collaboratori e 4 operatori. Ma nelle sedi distaccate i numeri sono impietosi. A Trapani mancano 29 funzionari in un ufficio che è chiamato a esaminare qualcosa come 550 domande di concessione demaniale e altre autorizzazioni. A Siracusa e Ragusa, nella sede accorpata, mancano 28 funzionari e in servizio ne sono rimasti 3 che non riescono a portare avanti le pratiche nei tempi stabiliti. A Palermo mancano 8 funzionari, 28 a Messina, 29 a Catania, 20 ad Agrigento e Caltanissetta. Ovviamente la carenza di personale porta a notevoli ritardi nell'espletamento delle pratiche. Spostiamoci a Mazzara, trapelano le prime indiscrezioni su un imminente cambio in giunta dell'amministrazione guidata da Salvatore Quinci. Da notizie in nostro possesso sembra ormai davvero prossimo l'ingresso in giunta della consigliera comunale Arianna Dalfio che dovrebbe prendere il posto di Germana a Bagnato e con l'ingresso in giunta della Dalfio a entrare in consiglio comunale sarà Paola Caltagirone. L'altro nome caldo per l'ingresso in giunta è quello del professor Giacomo Mauro, già consigliere comunale esponente del PD. Queste sono le voci che ci giungono dal palazzo, secondo appunto quelle che sono soltanto delle indiscrezioni, ma dovrebbe essere davvero imminente questo aumento del numero degli assessori da 5 a 6 con l'ingresso di Mauro in quota Siamo Mazzara e quindi che andrebbe ad affiancare la collega Ina Agate e il subentro della consigliera Dalfio e l'assessore a Bagnato. Siamo in materia ovviamente di indiscrezioni, le prossime ore ci diranno ovviamente se le notizie in nostro possesso corrisponderanno alla realtà dei fatti, ma ovviamente è una notizia che è trapela ormai da giorni e che nelle ultime ore si è fatta più insistente. Abbiamo deciso di comunicarvi. A proposito di Mazzara del Vallo, sono uscite le graduatorie per il micro nido comunale del plesso Poggio Reale. Pubblicata all'albo pretorio online del portale istituzionale del comune di Mazzara del Vallo, la graduatoria degli utenti ammessi ai servizi per l'infanzia micro nido attivati nel plesso Poggio Reale dell'istituto comprensivo Borsellino Aiello per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, grazie ai fondi del secondo piano di riparto PAC Infanzia. La graduatoria sulla base dell'avviso con scadenza il 21 gennaio è composta di 25 utenti. La priorità è stata data ai figli di nuclei monoparentali e al minore reddito ISE. Dei 25 utenti inseriti in graduatoria saranno i primi 20 ad essere ammessi al micronido di via Poggio Reale, in quanto lo stesso può essere fruito da un massimo di 24 bambini e già in quattro erano stati ammessi sulla base della precedente graduatoria. Per quanto riguarda lo spazio gioco riservato ai 14 bambini di età compresa tra i 18 e 36 mesi è in fase di elaborazione la graduatoria. L'ufficio affari sociali sottolinea che possono essere presentate domande anche oltre il termine del 21 gennaio e verranno ugualmente accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti. Ciò vale sia per il micronido che per lo spazio giochi. Naturalmente le domande pervenute oltre i termini, se ammesse, saranno allocate in coda e utilizzate nel caso di mancato completamento delle graduatorie o di rinunce. Per informazioni e documentazione è possibile telefonare nei giorni e orari d'ufficio al responsabile del procedimento Paolo Barranca del settore servizi sociali al numero 0923 671662. E spostiamoci adesso a Castelvetrano al vaglio dei tecnici già 13 edifici scolastici delle scuole primarie. Tutto nell'ambito di un finanziamento regionale del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale che ha come finalità l'indagine diagnostica attraverso verifiche tecniche finalizzata alla valutazione del rischio sismico. Il sindaco Alfano e la sua giunta, dopo aver presentato i vari progetti e ottenuto il finanziamento, hanno affidato a tecnici i vari incarichi. I lavori, ricordiamolo, sono iniziati nella fine dello scorso anno ma attualmente hanno subito un rallontamento per i problemi legati al Covid. È restata diramata dalla Protezione Civile una lerta media gialla per la giornata di oggi fino alle ore 24. Sono previste infatti precipitazioni anche a carattere di breve rovescio e venti forti. Si invitano i cittadini alla prudenza. E a proposito delle piogge di questa notte, un nostro telespettatore ci ha segnalato le condizioni in cui si trova il terzo circolo didattico di Mazzara del Valle in via Evrea con lo spazio antistante che è diventato una zona strapiena di pozzangare. Nonostante un intervento tampone, a quanto pare lo stesso non è stato utile ad evitare il ripetersi di situazioni come quelle che state vedendo nelle nostre immagini, siccome sono degli istituti frequentati da bambini, sarebbe il caso di intervenire nuovamente per evitare di trovarsi di fronte a una situazione del genere. E con il video delle immagini del terzo circolo didattico io vi lascio alla programmazione della nostra emittente. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.teleottotv.it o sui nostri canali social. www.teleottv.it o sui nostri canali social.